Confronto nella sede della Camera di Commercio di Chieti sull'istituzione della ZES, la zona economica speciale fra la regione e le associazioni di categoria. Omar Redia. È il dibattito sull'istituzione della zona economica speciale in Abruzzo a dominare il convegno organizzato nella sede Teatina dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara. Un confronto tra visioni differenti sulla crescita dell'intero sistema regione e sul futuro di porti industriali come Ortona e Vasto. A luglio la Giunta Marsilio ha approvato il nuovo piano di sviluppo strategico della ZES, un progetto che prevede Ancona come autorità portuale di riferimento. Si tratta dell'unica soluzione in linea con le normative europee e nazionali, hanno ribadito il governatore Marsilio e l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. I ministeri competenti ci hanno confermato che la pratica sta andando avanti, ha sottolineato quest'ultimo. Percorre le strade diverse significherebbe rischiare di perdere l'opportunità della ZES. Ma associazioni di categorie e sindacati rilanciano l'opzione legata al porto di Civitavecchia e alle potenzialità offerte dalla realizzazione del corridoio trasversale Tirreno Adriatico. Il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. Abbiamo un'opportunità unica che è quella di intercettare un corridoio su un'area dove oggi insiste un buco nero di trasporti che ci consentirà anche di intercettare investimenti e perché no prevedere anche una nuova ferrovia, un nuovo racciato ferroviario che i fondi che verranno messi a disposizione su questo corridoio ci consentiranno di avere sia il trasporto ad alta capacità che il trasporto ad alta velocità per i passeggeri. Il segretario regionale della CGL, Carmine Ranieri. È possibile portare avanti la ZES anche con il porto di Civitavecchia e vogliamo che sia portata avanti con il porto di Civitavecchia. Ora si tratta di capire se la regione Abruzzo vuole prendere una posizione chiara oppure no su questa partita perché nelle varie discussioni c'è sempre un po' di nebbia in questi porti e invece noi crediamo che si debba fare chiarezza.